Siamo qui con Andrea Boggio, Head of Italy di Jupiter, a quale vogliamo fare una domanda molto generale sulle prospettive per il 2020 nel mondo dell'asset management. Arriviamo da un 2019 molto positivo in tanti sensi per la raccolta dove tutte le asset class o quasi sono state positive e ci approcciamo a un 2020 invece che si annuncia già più complicato anche se per fattori molto esogeni. Molti vedono in questo un fine ciclo ma nel mondo dell'asset management la cosa sempre raccomandabile e abbastanza saggia e di prudenza è quella di essere sempre sempre aderenti e coerenti con il proprio profilo di rischio. Quindi si cerca sempre di proporre soluzioni e idee che rispettino la propria propensione di rischio e il proprio orizzonte temporale e la nostra migliore raccomandazione è sempre quella attraverso i consulenti di trovare soluzioni che siano assolutamente adeguate a questo. Perfetto, per quanto riguarda invece il tema tanto acclamato ma giustamente della sostenibilità come si posiziona Jupiter? A me piace sempre ricordare l'esempio del ristorante vegetariano. Nel 1988 quando Jupiter ha lanciato la prima soluzione in Europa dedicata a questi temi se uno era vegetariano aveva un'opzione sola quella di andare probabilmente nell'unico ristorante vegetariano che c'era in quella città. Nel 2020 tutti i ristoranti offrono almeno un piatto vegetariano e ci troviamo nella nostra industria in questa situazione dove bene o male quasi tutte le case offrono qualcosa che sia ISG, SRAI eccetera. Allora noi come approcciamo questo? In due modi. Anzitutto offrendo uno standard minimo su tutte le strategie quindi anche quelle che non sono dedicate a questi temi offrono un'attenzione veramente elevata a questi temi comunque. E poi abbiamo due tipi di approccio, i fondi e le strategie che guardano il che cosa e i fondi e le strategie che guardano il come. Il che cosa è chiaro, cerchiamo di investire nelle società che offrono un cambiamento in questi settori, pensiamo ad esempio al riciclo dei rifiuti, all'energia rinnovabile eccetera. Ma forse ancora più interessante sono le soluzioni di investimento che guardano il come. Sono aziende normalissime, molto famose, molto eccellenti in altri settori ma che invece hanno una grande attenzione a questi temi in diretta quindi noi le selezioniamo proprio perché sono attenti a quello anche se il loro core business non è nel campo dell'ISG. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi.